Laswell erano armi chimiche. Makarov ha del Sarin altamente concentrato. L'avete recuperato? Negativo. Per poco moriva il capitano. Dov'è? Sono qui, Laswell. Dove sono i missili? Ho rintracciato i missili di Pharah in un complesso di bunker. Della guerra fredda. Conosciamo quei bunker. Anche Pharah. Perché a Connie serve un silo per un missile trasportabile? Esatto. Dividiamoci. Io raggiungo Pharah all'obiettivo. Separiamoci e perlustriamo il complesso. Recuperiamo quei missili. Bene. Vado ad Arkloth a incontrare un contatto che potrebbe aiutarci. La base militare in Kastovia? E come ci entrerai? Stando attenta, mi farò sentire quando potrò. Ti vediamo là. Buona caccia, bravo. Sei a Ghost, sono arrivato. Situazione? Sono sul bersaglio a Charlie. Tu hai Alpha, mentre chi lo pensa bravo. Bene. Un attimo. Che cazzo farò? Sta sempre allerta, vecchio. La Russia è di nuovo in Urzikstan. Mercenari? Il gruppo Connie. Ieri hanno preso sostanze chimiche a nord. E all'alba hanno rubato i miei missili. Tutto in meno di 24 ore dall'uscita di prigione di Vladimir Makarov. È molto veloce. Già. Vuole recuperare il tempo perso. Andiamo. Chi ti ha dato quei missili? La Shadow Company. La Shadow Company non possiede missili. Sono galoppini ben equipaggiati. Sono buoni alleati. I tuoi alleati hanno attaccato i miei uomini. È stato il comandante Graves? Sì, aveva degli ordini. Di chi? Del generale Shepard. I missili te li ha dati Shepard? Le mie armi sono un affare mio. Sono uomini pericolosi, Farah. Lo siamo tutti, capitano. John. Non ho intenzione di mentirti, ma non posso dirti tutto. Le informazioni riservate per me sono segreti. Assediano di nuovo il mio paese. Come diceva Dio. Potrebbe andare molto oltre l'Urzistan. Allora aiutiamoci a vicenda. Spero che ti fiderai di me, come sempre. Non è chiaro. Bene. Ci vediamo dall'altra parte. A tutti. Sì, bravo, sei in posizione. Chilo? Qui, Chilo. Sono pronta. Roger, drone in sorvolo. Lei affará, avete il controllo. Affermativo. Parecchi russi. Connie ha portato un esercito in Urdizistan. Nessun missile è in vista. Allora sono nei bunker. Vedo un ingresso. Lo marco. Servirà un tesserino. Farà ragione. Prima abbiamo ucciso un capitano che aveva un tesserino. Berretto Rosso. Ok, Berretto Rosso. Ce n'era uno agli edifici d'acciaio a nord dell'ingresso. Berretto Rosso, il mio bersaglio. Bene, inseguilo. Prendili il tesserino e usalo per superare quella porta. E tu? Conosco un altro ingresso. Ok. Resta in contatto. Ci vediamo dentro. Scendo sul lato della montagna. Fa attenzione. Bene. Silenziosa e letale. Il drone è ancora in volo, sei? Usalo se serve. Cecchino sulla torre. Decidi tu se sparare. Il drone è ancora in volo. Sei a tutti, Connie? Sta seminando materiale dell'ULF nella base. Preparano un attacco sotto falsa bandiera. Quei missili sono americani. Vuole incastrare Farah e l'Occidente. Vuol far pensare al mondo che il nemico sono io. Scopriamo qual è il bersaglio prima che sia troppo tardi. Daguerias. No. Non c'è il territorio. Ma la mia risposta è stato come si affreste. No. Non c'è il ritmo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Coni sorveglia il cancello. Controlla il perimetro, forse c'è un altro ingresso. Eliminata. Meno uno. Fuori un altro. Un altro distrutto. Un'altra. 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 Visuale sul Capitano. Vielo, Capitano Cogno a terra! Per entrare serve il tesserino. Tesserino preso. Ricevuto. Ho trovato un ingresso. Ci vediamo dentro. Chilo, chiudo. Grazie a tutti. Sono dentro. Guardati le spalle, vecchio. Sanno che siamo qui. Affermativo. Proviamo coi missili. Guardati le spalle. Prego, guarda! Mai! sanno che siamo qui diamo c'è da fare avanti muoviamoci la la occhio agli angoli avanti No vieno! a Io salgo. Io salgo. ah tiratori in alto Grazie a tutti Oh! hai sentito capitano stanno a prendere il portello cercano di lanciare il possiamo usare questi computer per fermare il lancio negativo devo accedere al pannello di comando del missile si lo è alla fine del passaggio avanti se riusciamo ad arrivare al missile forse posso disarmarlo la piattaforma di lancio è dietro questa porta ricevuto chiusa un momento a tutti abbiamo trovato due missili le testate sono caricate con sostanze chimiche ripeto i missili hanno testate chimiche 7-1 ripetere prego porca puttana aperta libero il missile lo lanceranno capitano 06 risponda capitano mi riceve qui sei hanno messo le sostanze chimiche nelle testate le lanceranno i miei missili le mie vanghiere il mio paese vuol far credere che sia opera vostra se quei missili decollassero le sostanze chimiche sono nel missile farà questi missili sono tuoi deve esserci un modo per disarmarli ci sono pronto un attimo è tardi per disarmarlo lasciamolo decollare chiuderemo il portello così esploderà tenendo le sostanze nel bunker si va in superficie trova i comandi del portello e chiuderemo dove sarai tu raggiungerò un punto sicuro e rinvierò il lancio vai ora coni pronti al contatto ritarderò il lancio il più possibile tu raggiungi la torre in fretta non 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 Alla prossima A tutti, qui il Connie ha attivato il lancio dei missili. Non posso fermarlo. Il bersaglio? Fate a... Laswell. Due minuti al lancio. Capitano, resta poco tempo. Torna in superficie. Ilo, sto salendo. Ricevuto. Raggiungi la torre e i comandi. Capitano, elicottero Connie in arrivo sulla sua posizione. Stanno schierando i rinforzi. Deve fare presto. In arrivo sulla sua posizione. Stanno schierando i rinforzi. Deve fare presto. I Connie sono dappertutto. Proteggono la torre. Falli fuori. Io ritarderò il lancio. Insieme. Sessanta secondi. Vai alla torre di controllo. No! Entro nella torre di controllo. Sessanta secondi al lancio. Usa i comandi e chiudi quel portello, Capitano! Kilo! Il portello è in chiusura! Kilo! Farah, mi ricevi? Farah, riesci a sentirmi? Forte e chiaro. Detonazione avvenuta. Missile distrutto. Sostanze contenute. Ok. Bravo. Rapporto. È troppo tardi. Connie ha circondato i comandi. Che significa? Due missili. In partenza da nord-ovest. No. No! Kate! Sei a Watcher? Sei a Watcher? Kate! Laswell, ci sei? Qui sei, alla cieca. Ci sono due missili diretti verso la base di Arkloff. Sono armati con testate chimiche. Se siete lì, andatevene. Ora!